Due mesi fa tramite ebay decisi di acquistare un profumo di un noto brand giapponese. Più che altro era la curiosità a guidarmi più che il vero bisogno di avere un profumo e di certo non vado a buttarmi su un profumo di cui non si è mai sentito parlare tanto più se il profumo è tratto da un anime o un videogioco o manga o quel che volete. Però, data la mia grandissima curiosità e il bisogno impellente di buttare qualche centone ho deciso di acquistare Fragranza di Kido Yuto per l'uomo che non deve chiedere mai Che poi che deve chiedere non lo so però Sì, ho acquistato il profumo di Inazuma Eleven e voi vi chiederete ma perché hai acquistato un profumo di Inazuma Eleven? La qualità sarà sicuramente dubbia E lo è? Non lo so, andiamo a vedere La confezione si presenta davvero in maniera impeccabile una scatola ben costruita ad arte con ovviamente il nome del brand Inazuma Eleven La fragranza è Yuto Kido centrocampista della famosa Inazuma Japan Tra l'altro sulla scatola abbiamo anche dei pinguini il che vuol dire che abbiamo sicuramente un odore di pinguino qui dentro eccolo qua c'è solo il profumo e dentro non c'è altro quindi possiamo anche tenerla giusto per collezione ma la cosa che mi fa specie così a prima vista io spero di sbagliarmi però qui c'è un adesivo e con l'adesivo c'è anche appunto il motivo riportato sulla scatola la mia paura è che se provo a togliere l'adesivo si toglie tutto il motivo perché non è stampato sul vetro della bottiglia ma è proprio stampato sull'adesivo quindi vorrei evitare di rovinare subito la confezione di un profumo che non andrò a mettere mai ma che terrò giusto per collezione però la cosa più importante è oh particolare tappo non sa di niente però teniamolo qui bisogna sentire se è buono o meno oh 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 ah cavoli troppo alcol mamma mia troppo alcol hanno usato wow troppo alcol ragazzi c'è troppo alcol mamma mia vorrei farlo sentire anche a voi ma ragazzi c'è troppo alcol nei profumi l'alcol viene usato ok ma qui ce n'è davvero troppo a primo impatto l'odore che si ha è di fiori il sito ufficiale dice alberi quindi non ci sono troppo lontano ma molto leggero però se inali fortemente senti proprio l'odore di alcol che ti sale e ti sconquassa il cervello è davvero fortissimo però cavolo una volta scomparso rimane un buon odore si sente di molto di meno l'alcol una volta che si asciuga e rimane un buon odore di fiori di campo beh ragazzi non vale di certi soldi che costa assolutamente il problema è che farlo importare dal Giappone costa purtroppo di più che andare a comprarlo in un negozio giapponese certo se ci vai in vacanza e ti imbatti in un negozio che vende questi obrobri è giusto che insomma tu possa anche andare lì e comprarlo però fare come me che l'ho comprato apposta non ne vale affatto la pena è buono l'odore si sente io stando qui anche a distanza riesco a percepire con un solo spruzzo l'odore è forte si sente però non è quell'odore buono di marca ci sono quei profumi che ti rimangono addosso anche con una spruzzata per una settimana intera se non ti lavi quindi ci sta da collezione ma non da andarci appunto in giro perché è leggero per un bambino potrebbe andare bene ha un profumo molto leggero e non è da uomo però il signor Primaniacs penso sia ha detto oh vogliamo acquistare il marchio di Nazoom Eleven ce lo vendete si che ci fate fatti i nostri a loro ok giustamente il fatto è che sono conosciuti questi Primaniacs in Giappone per fare profumi c'è anche il sito www.primaniacs.com e potete andare a vedere quello che fanno hanno fatto profumi di tantissimi brand quindi che ci sia anche in Nazoom Eleven dentro è solo un caso non è che il level 5 un giorno si è svegliata che facciamo per spendere soldi in Nazoom Eleven no quindi insomma è anche giusto vendere una piccola parte del proprio brand per appunto guadagnarci qualcosina è un brand che purtroppo non ti sta dando tanti risultati quindi lo vendi comunque sia ragazzi se volete fate un salto sul loro sito ve lo lascio in descrizione e fragranza di chi d'aiuto per l'uomo che non deve chiedere fareste meglio prima chiedere di provarlo perché non è proprio da uomo a meno che in Giappone non vadano di moda i profumi molto leggeri grazie grazie